La primavera 2015 non è poi tanto lontana per i pretendenti all'eventuale successione del governatore Gian Mario Spacca e dei consiglieri regionali. Intanto cominciano a trappelare i primi nomi dai papabili candidati al Consiglio. Alcuni certi, altri sono solo ipotesi. Si tratta quindi di toto candidature suscettibili a modifiche o a smentite. Il Movimento 5 Stelle schiererà per certo Rossella Cotto. Nel centro-destra invece si riconfermano Elisabetta Foschi, Roberto Zaffini e Mirko Carloni che proprio sabato scorso ha annunciato le dimissioni dal Consiglio Comunale di Fano sia per favorire l'ingresso di Alberto Santorelli e quindi rafforzare il gruppo Progetto Fano che ovviamente per dedicarsi a tempo pieno alle regionali. Un quadro politico questo che nel corso degli ultimi anni è cambiato. Infatti nel 2010 sia Carloni che Foschi erano entrambi candidati del PDL, mentre oggi uno si presenta per il nuovo centro-destra, mentre Foschi per Forza Italia. Stessa situazione anche per Roberto Zaffini, ora in corsa per Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale e non più per la Lega Nord. Per quanto riguarda Giancarlo Danna invece, che sta concludendo il suo secondo mandato, prima di arrivare ad una conclusione aspetta di sapere le proposte e di conoscere un progetto chiaro e serio perché fino ad ora non c'è un quadro ben definito. Per Forza Italia poi continua a circolare il nome di Maria Antonia Cocuzza, ma come ribadito stamattina dall'ex assessore, prima di prendere una decisione definitiva anche lei aspetta di conoscere il progetto politico e le alleanze. Per il PD invece, dopo il ritiro di Francesco Torriani, rimangono Renato Claudio Minardi e Rosetta Folvi. Invece a decidere a fine mese sarà la Lega Nord e come affermato da Luca Rodolfo Paolini non è escluso che possono correre da soli. Questo dipenderà dalle scelte di Spacca, il quale deve ancora decidere che cosa intende fare con la sua lista. Dunque la campagna elettorale non è ancora ufficialmente iniziata, ma sono tutti a lavoro per i prossimi regionali.